ma dopo la quinta sconfitta all'inizio di settimana naturalmente non è stato dei migliori insomma lunedì e le ragazze erano un po giù ma siamo ma credo che sia abbastanza normale insomma c'è chi era un po più triste chi è ancora un po arrabbiata dalla partita e quindi insomma è stato un inizio settimana un po difficile ma ci sta poi andando avanti con gli allenamenti invece ho visto che piano piano c'è stata una ripresa insomma anche a livello di morale di convinzione è un periodo duro da un punto di vista sportivo naturalmente difficile e ci aspetta adesso una strada ancora più in salita perché la partenza è stata davvero insomma una partenza certamente non positiva e avere zero punti in classifica pesa è inutile negarlo però insomma è un peso che vedo che le ragazze noi tutti lo staff stiamo cercando di condividere ecco credo che sia importante portarlo tutti insieme questo peso naturalmente io come allenatrice ho la responsabilità più grande del gruppo e cerco di tranquillizzare le ragazze il più possibile perché la serenità diventa fondamentale in momenti come questo e anche se le ragazze stanno rispondendo bene perché hanno capito che è un po' un periodo duro di tempesta dove bisogna comunque aver tenuta è importante tenere tutte insieme e acquisire consapevolezza di quelle che sono state le cose che fino adesso non hanno funzionato partire da sé e e cercare insieme di superare questo momento difficile senza alibi esterni ma ricercando ognuna dentro di sé tutto quello che è possibile migliorare migliorare e il farlo tutti insieme credo che sia veramente l'unica strada la crescita c'è stata e non è stata solo una crescita di gioco ma sono le ragazze sono cresciute in tanti altri aspetti è chiaro che quello che dice il campo fino adesso i risultati non ci stanno dando ragione bisogna prenderne atto però continuare con fiducia a lavorare a crederci perché credo che questa sia davvero la strada giusta di miglioramenti ce ne sono stati davvero tanti a mio parere le ragazze si sono compattate anche contro il Chievo hanno disputato una buonissima partita sotto il profilo del gioco se vogliamo non è stata una partita così spumeggiante però si è vista una compattezza di squadra notevole nell'equilibrio tattico nell'aiuto reciproco nell'essere connesse sempre l'una all'altra nel non perdere la testa nel continuare comunque a giocare cercando il gol attraverso il gioco è chiaro che manca un po di lucidità ma questo perché la classifica non ci dà la tranquillità con qualche punto in più naturalmente tutto sarebbe diverso però con i secconi ma non si va da nessuna parte quindi bisogna stare in questo momento difficile attraversarlo tutto avere continuare ad avere fiducia ripeto farlo insieme perché solo insieme si superano le difficoltà e da questo punto di vista io sono fortunata perché è un gruppo veramente che dà dei risultati sorprendenti perché qualsiasi squadra credo in un momento così si sarebbe disunita e invece no invece no anzi vedo molto unite tra di loro e stanno tutte insieme c'è cercando di uscire fuori da questo momento i test ci hanno dato delle indicazioni sicuramente dovremmo intensificare il lavoro il lavoro aerobico lo faremo stiamo cercando però di far crescere questo gruppo anche in maniera graduale perché non dimentichiamoci che squadra ci sono tantissime ragazze molto giovani e quindi bisogna dare a loro il tempo di crescere e l'importante secondo me sarà aumentare l'intensità sicuramente però con una certa gradualità perché alcune giocatrici sono in fase proprio di di crescita non alcune sono già delle delle atlete formate e altre no quindi c'è un gruppo molto eterogeneo e bisogna considerare anche le tante differenze che ci sono però sicuramente avere l'opportunità di fare i test ci aiuta ci dà delle indicazioni importanti per il lavoro futuro e manca già da Pondini che ha avuto purtroppo un problema alla caviglia adesso stiamo attendendo l'esito della risonanza magnetica e vedremo insomma mancherà sicuramente solo lei che purtroppo non abbiamo avuto a disposizione neanche nella partita contro il Chievo per il resto le altre insomma sono tutte disponibili